bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e oggi ragazzi porco porco non so se già lo state vedendo sicuramente sì ragazzi è uscita ieri la mega quadrupletta che non so neanche se sia una parola di offerte del capodanno lunare le stiamo già vedendo ragazzi 1 euro e 0 9 baule cangiante più 2000 di gold e 80 gemmine 5 euro e 49 15 mila gold più baule cangiante 500 gemme 10 99 40 k di gold e 1200 gemme e 21 e 99 baule del re leggendario 50 k di gemme magari 50 k di gold e 2500 gemmine facciamo una roba proprio veloce assieme proprio veloce assieme ragazzi 1 euro e 0 9 lo prendiamo senza neanche guardarla proprio così ragazzi proprio così la andiamo a vedere pagamento riuscito sganciato ancora un eurello a super sell andiamo a vedere ragazzi cosa c'è 630 di gold per questo baulettino cangiantello andiamo a vedere le skip oh 103 gang di goblin non mi interessano 20 k non sono male wow e 2 fulmini ragazzi vi ricordo che abbiamo 5 skip da poter utilizzare per cambiare un tipo di carta che non ci è piaciuta direi di andare al momento sulla gang di goblin perché sinceramente come carte comuni è l'unica che non mi interessa tanto le 20 k non mi dispiacciono e vediamo poi per la fulmine che cosa fare andiamo a schipparcela qua grande subito 103 goblin fantastici ragazzi fantastici sono molto propenso a cambiarle rare ragazzi per gli scaricuccioli sono molto propenso ma anche 20 k non mi dispiacciono per niente ragazzi non lo so vado a cambiare le epiche vado a cambiare le epiche due principi non mi interessa aspetto il pecca ragazzi aspetto il pecca vediamo arrivano due carrelli della spesa non mi interessano dammi il pecca due streghe non mi servono pecca boia ho tornato forza arrivano il tornado va benissimo ragazzi va benissimo prima soppazzatina era quella proprio di apertura 630 di gold 103 goblin 20 capanne e due tornati ce li andiamo proprio scrank con 80 gemme a prendere oh mio dio là sotto c'è un hog rider oh mio dio c'è un hog rider non è mica finita ragazzi devo farci una bella partitella ve lo ricordo con il deck che sto utilizzando adesso vede al suo interno gli scaricuccioli a livello 8 ragazzi quindi molto bassa come carta rara per il numero di trofei che se anche non è eccessivo 4.325 siamo sempre lì si sta veramente comportando bene andiamo a vederla assieme vediamo un pochettino che cosa succede contro vino dei good vibes vediamo un pochettino vediamo un pochettino allora abbiamo già lo grider e gli scaricuccioli che non sono male come una partenza vediamo cosa fa lui si gioca un tank sparo di là gioca un mago di ghiaccio e allora andiamo veloci e allora andiamo prepotenti ragazzi vediamo cosa fa lui vediamo cosa fa lui tentiamo di scaricare gli sgherri bene così la scarica sugli sgherri oh rider che ha potuto fare i grandi disastri lui è obbligato ad usare anche un'orda di scheletri per fermare qua andrei semplicemente con i pipistrelli sopra il mago di ghiaccio per evitare proprio i danni pesanti gli scheletrini non mi interessavano si hanno già messi bene 2.504 3.346 le punti salute delle torri avversarie noi siamo messi molto molto bene gioca il giant gioca il giant quindi spirito del ghiaccio dietro oh rider davanti vediamo cosa fa gioca gli arcieri andiamo a pallafocaglia di quegli arcieri andiamo a tirarli via quegli arcieri che danno fastidio 1.1318 9.34 5.50 166 devastante mi giocherà l'orda adesso mi giocherà l'oddio gioca il cimitero non me non ci posso credere cimitero cattivissimo andiamo con la scarica di qua mettiamo lo spirito del ghiaccio vediamo se gli scaricuccioli mi aiutano è molto cattivo anche lui devasto devasto attacco in devasto ragazzi mamma mia mamma mia e non è mica finita beh qua possiamo lasciar passare un attimo gli sgherri attenzione bene solo quel giant che è un po' preoccupante andrei ancora con gli scaricuccioli per rallentarne l'attacco ragazzi devastante il suo attacco continuo a sentire secondo me la necessità di inserire le frecce in questo deck più che la fireball credo che valga la pena provarci qua andiamo a tirare via mago di ghiaccio e torre perfetto in un colpo solo non ci interessa non ci interessa via così attenzione gli scaricuccioli che entrano lui lì ignora e fa bene direi perché io non ho intenzione di fare nulla ancora per qualche istante lasciam passare lasciam passare il giant è ovvio che lo andava a giocare era ovvio che andasse a giocarlo tentiamo di fermare di nuovo tutto buono anche con la zap e bene anche i pipistrelli si rivelano veramente molto utili in questo frangente andiamo a fermare il giant di nuovo scaricuccioli dietro attenzione agli arcieri che in realtà sono dentro e stanno facendo un sacco male bene lo spirito del ghiaccio che va a colpire 1070 sono sotto ragazzi gioca l'orda gioca l'orda perfetto lui va a giocare l'orda eccezionale riusciamo a zappare bene 2008 88 non sono sufficienti non sono sufficienti è giusto ancora al giant centrale è giusto qua serviva di brutto serviva di brutto le frecce servivano di brutto attenzione andiamo a perdere anche la second tower di gisa really big problem my friends really big problem my friends we can't made nothing we can't made nothing a meno che non partiamo con lo grader di qua vediamo se è buona la predict ma non credo sia sufficiente andiamo a devastare andiamo a colpire ma purtroppo andiamo anche a perdere secondo me aveva veramente senso usare le frecce nel deck secondo me avrebbe avuto un senso molto più alto alle frecce e sicuramente per i tank è ancora un problema questo mini pecca al 9 ragazzi è veramente un grande grande problema non demordiamo andiamo dentro ancora vediamo se la vinciamo potrebbe starci un'altra sopazzatina ragazzi non lo so non lo so ci potrebbe stare siamo contro toni del clan che ovviamente anzi è del clan toni abbiamo dei goblin li andiamo a splittare di qua ragazzi lui gioca un moschettiere scaricuccioli molto alti o grader in apertura ragazzi bene così guarda il goblin che spinge lo scaricucciolo eccezionale qua eccezionale attenzione al bocciatore attenzione al bocciatore riescono sempre a counterarmeli bene ragazzi incredibile incredibile come me li counterano bene bene che andiamo così ragazzi andiamo a congelare quel moschettiere che con uno di elisir possiamo tranquillamente depennare dalla lista dei problemi bene così anche gli i nostri pipistrelli che si mangiano il bocciatore con calma con calma 8 9 ok splittiamo di nuovo i goblin sono pronto ancora con log rider ragazzi sono pronto ancora con log e vai che si va e vai che si va allora scaricuccioli dietro og rider il mago all'11 me l'ero completamente perso vortex per lui super infame super infame addirittura non entra nessuno dei miei attacchi lo stregone all'11 non dovrebbe essere un problema perché nuovamente i miei pipistrelli possiamo piazzarli sopra e quindi con la torre evitare il peggio e subire solamente una hit dallo stregone 1877 la torre in alto a destra 3346 la sua in alto a sinistra siamo comunque davanti ragazzi siamo comunque davanti e io non demordo e io non demordo beh se lui gioca così io giocherei così ragazzi assolutamente necessario tentare il cambio di fronte lui ha la tornado ovviamente ma gioca la gag va a congelare ma che dec ha questo qua ma che dec usa questo questo mi gioca lo stregone di fuoco dietro al bocciatore fra due secondi vedrai io glielo andrò a pallafuocare forse non è necessario gioca il moschettiere quindi possiamo andare così ragazzi possiamo andare così via il moschettiere e poi andiamo a fermare anche il suo bocciatore ma non è buona la giocata non lo è assolutamente ragazzi è ancora molto difficile cercare di fare un ingresso in questo frangente come fa vero un moschettiere all'undici che prima ce l'aveva al 10 porco giuda andiamo di là andiamo di là ragazzi non diamogli modo oh sembra buona la giocata ragazzi sembra buona avrà il vortex lui disponibile avrà il vortex e infatti tira il vortex sulla torre principale noi dobbiamo tentare di nuovo un aggancio violento lanciando di nuovo uno grider di là ragazzi ha appena tirato il vortex non può tirarne un altro non può tirarne un altro sembra buona la fireball sembra buona la fireball lui va a gelare la fireball è stata molto utile in questo frangente ragazzi andiamo con il mini pecca sopra 1.702 è giocato malissimo questo mini pecca non potevo giocarlo peggio di così ragazzi lui è obbligato ad andare a fermarlo se vuole fare qualcosa continua a cagare bocciatori ragazzi come se non ci fosse un domani ma noi ripartiamo altrettanto veloci di nuovo con scaricuccioli e hog rider che entra andrà a vortexarmelo forse no sì invece va a tirarci un vortex di nuovo ragazzi ma gli scaricuccioli dietro ci possono venire in aiuto e adesso vanno sulla torre lui è obbligato a congelarli oh mio dio 344 la torre dai che si va ragazzi dai che si va lui c'ha il bocciatore ero convinto tirasse sinceramente qualcosa di più pesante buona la zap e andiamo a portarci a casa la partita ragazzi è molto faticoso giocare con gli scaricuccioli è molto difficile ma ogni tanto danno queste grandi grandi soddisfazioni beh ragazzi secondo me secondo me siamo già qua siamo già qua dai che ci servono più che altro i danè ci servono quei 40k di gold per 10,99 le 1200 gemme sono tanti ragazzi sono tanti ma andiamo ci pre... aspetta 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 perché col... vabbè io le leggendarie non le sto usando dai 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 non ci pensiamo più non ci pensiamo più via che non ci pensiamo via che non ci pensiamo ragazzi vediamo prot andiamo a prenderlo ragazzi andiamo a prenderlo prot secondo baule cangiante e qua voglio un milione di like ragazzi mi raccomando un sacco di like non dimenticatevi di lasciarli e di iscrivervi al canale dai che voglio la vostra fortuna per queste skip speriamo siano buone vediamo un pochettino 103 barili d'ossa interessante molto interessante vediamo un po' arrivano 20 scaricucceli è la vostra fortuna questa ragazzi è la vostra fortuna e vediamo un po' la miseria sarebbe già perfetto così ragazzi però il barile d'ossa non lo sto più usando nel main deck andrei a cercare qualche carta comune anche se 103 barili d'ossa sono veramente tanta roba ragazzi sono veramente tanta roba mi fermo così mi fermo così ragazzi direi che va più che bene questo super baule cangiante molto guarda quanta roba che si può vedere 63.000 di gold ci manca solo quello ma non lo andrò ancora sciopazzare ragazzi beh ragazzi per questo video direi che è veramente tutto io vi ringrazio tantissimo per averlo guardato fatemi vedere quanti like li uscite a lasciarmi li uscite a lasciarmi iscrivetevi al canale e noi ci vediamo presto ciao 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 Grazie a tutti